E quindi così come scoppio finale di calciomercato l'Inter piazza il colpo in mezzo al campo. Non è Samarzic, c'entra anche poco secondo me personalmente con Samarzic, ma è un colpo interessante. Chi mi segue da tanto tempo, ma veramente tanto, dagli albori del canale dal lontanissimo 2017, si ricorda quanto io fossi fissato e si è fissato tutt'oggi con quell'Ajax. L'Ajax che cavalcò in Europa League fino alla finale proprio nel 2017. E indovinate un po' chi era uno dei pilastri di quell'Ajax? Esatto, Klassen. Klassen che quindi va all'Inter, firma con l'Inter al photo finish e va a, diciamo, sistemare la mediana dell'Inter, che a mio avviso è la più forte sicuramente in Serie A e una delle più forti in Europa. Però prima di parlarne, iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche sui altri social, ovvero Instagram e TikTok, i cui link li trovate come sempre in descrizione. Detto ciò, allora, la mediana, il centrocampo dell'Inter, comunque tutto quanto il pacchetto di giocatori che si vanno a disporre fra attacco e difesa, secondo me, è di altissimo, altissimo livello. E Klassen come riserva, come alternativa nell'ennesima dimostrazione. Klassen è un centrocampista tipico, perché comunque lui nasce trequartista, in quell'Ajax giocava trequartista, però era un trequartista, uno si immagina il trequartista un po' un fideo, quindi uno spaghettino, uno abbastanza magrolino, fantasista, con dei piedi veramente da Dio, che sa giocare benissimo. Klassen non è proprio così, nel senso che sì, ha qualità, però ha meno qualità di un 10, di un 10 classico, ha più fisico, e era un trequartista, diciamolo così, di sostanza quasi, quindi è un centrocampista di sostanza. E questo è comunque che è Klassen. Gioca sia interno, quindi mettiamo caso al posto di un Mkhitaryan, che regista, che davanti alla difesa, Ciaranoglu, arrivò all'Inter, trequartista praticamente. Inzaghi piano piano lo ha trasformato prima in un vice Brozovic e poi in un post Brozovic, perché comunque alla fine Brozovic gli ultimi mesi non ha più giocato titolare proprio perché c'era un super Ciaranoglu. Stessa cosa che secondo me potrebbe fare con Klassen, anche se Klassen, vi ripeto, è molto d'utile, e avere sei centrocampisti del calibro di Ciaranoglu, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Aslani e Klassen è una roba inimmaginabile. Klassen è un ottimo colpo. Ha 30 anni, non è un giovincello, però comunque l'anno scorso ha fatto più di 10 fra gole assist in Olanda, quindi numeri anche non da poco per un Ajax che ha deluso. L'anno scorso l'Ajax ha avuto una stagione complicata e non si è espresso come suo solito, eppure comunque Klassen ha sempre fatto molto molto bene, motivo per cui, secondo me, secondo me, potrà fare molto bene anche all'Inter. Io ne sono veramente straconvinto e penso, vi ripeto, che quest'Inter sia forse la squadra, tecnicamente parlando, più forte in Italia. Le mancava qualcosa in difesa e hanno preso Pavard. Le mancava un altro attaccante e non hanno preso il top, ma hanno preso un giocatore funzionale come Arnautovic. Hanno preso anche Klassen, per me l'Inter è veramente veramente forte, e Sommer, nonostante sia meno centrocampista di un'ana, tra virgolette, meno bravo con i piedi. È un portiere estremamente affidabile. E quindi, secondo me, comunque l'Inter non ci ha perso niente in tutto questo mercato. Anzi, l'Inter ne esce notevolmente più forte e sicuramente come la candidata forte per lo Scudetto, o comunque una delle candidate forti. Ora, non lo so. Non lo so chi arriverà, non lo so come andrà a finire, però, però, Klassen è un ottimo colpo. Secondo me ha fatto benone anche all'estero, comunque in Germania ha fatto così e così. Non ha fatto male, non ha fatto male, però è un buon colpo, soprattutto se lo vai a prendere come alternativa. Certo, Samarsic era anche in prospettiva un affare straordinario, però anche Klassen, secondo me, è più di sostanza, però è uno che serve, è uno che fa legna ed è uno che potrebbe risultare utile all'Inter. Non vi faccio paragoni, qualcuno l'ha confrontato con Strotman, sono troppo diversi, sono troppo diversi per essere confrontati, però è un centrocampista olandese che sa unire dinamismo a una più che discreta tecnica. Ora, secondo me all'Inter comunque può fare soltanto che bene, e voi invece che cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale, tanti like e tanti commenti qui sotto, e seguitemi anche su Instagram e TikTok. Ciao!